E' lo scontro tra titani, è la sfida che potrebbe riaprire o chiudere definitivamente a doppia mandata la storia di questa stagione. Real Stella e Anzio Lavinio, prima e seconda forza del campionato, di fronte tra loro nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie C2 Gironi A, non possono permettersi di steccare in una gara che potrebbe essere decisiva per i rispettivi destini. Dal palazzetto dello sport Vito Fabiano di Latina, un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Chianese che cerca la verticalizzazione, attenzione intanto a questa chance, il tiro alla palata da parte del portiere dell'Anzio. Attenzione intanto a questa nuova azione, due contro uno in favore del Real Stella che prova il tiro con Capogrossi. Ancora Anzio Lavinio, uscita da parte di Donini, coraggiosa ma efficace. Chianese a sinistra, Chianese se ne va. E' stato bravo però Passer a chiudergli lo specchio tra Bragagnolo e il suo compagno. Lo stesso Bragagnolo va a prezzare il giocatore avversario, conclude, non è finita. Attenzione, il gol da parte di Ciuffa che mette dentro dunque da posizione defilata. Sul secondo palo è preciso il suo tiro che beffa Passera. Avanti dunque lo Stella. Attenzione intanto a questo pallone recuperato, sempre da Ciuffa. Ancora Ciuffa che caccia in porta a colpo sicuro. Che non riesce però a dare continuità. E sfoga la manovra, attenzione a questo destro. Pericolosissimo da parte di De Franceschi. Battuto l'angolo. Altra conclusione sporca e Tonini riesce a contenere questo tiro. In qualche modo non è finita ancora Tonini che riesce a rinviare. Duelli fisici. Chianese e il destro di Chianese. Parata da parte di Passera che con il piede destro mette il caccio d'angolo. Musilli va a disturbare Chianese. Poi ancora Chianese, si rinnova il duello con Musilli. Chianese, il sinistro di Chianese. E poi Passera che ci mette i guantoni. Chianese, attenzione qui ci può essere una grande chance per Lanzio. Il sinistro da parte di Scarpetti e la risposta di Tonini. Un uomo a costituire il muro difensivo. Punizione che viene battuta. E c'è la rete del pareggio da parte di Musilli. Che calcia in maniera imparabile sul secondo palo. Tonini non è riuscito però a intervenire. E dunque arriva il pari dell'anzio-Ravinio. Alle mani sono stati invitati alla calma. Calcio di punizione, battuto. Il pallone che riesce a passare. Ma in qualche modo se l'è cavata Lanzio. Incredibile chance. L'area Stella che forse ha costruito qualcosa in più. Ma Lanzio-Ravinio ha comunque replicato colpo su colpo. Attenzione intanto a questa prima opportunità costruita da Capogrossi. E la risposta ancora di Passera che mette in caccio d'angolo. Capogrossi cerca ancora nuovamente Cesari. Cesari, il numero da parte di Cesari che nello stretto si libera di Musilli e trapigge Passera con un tiro preciso di un secondo palo. Porta dunque il vantaggio nuovamente lo Stella. Il calciatore con la maglia numero 9. E poi ciuffa, spalla alla porta. Aspetta qualcuno a rimorchio. Può pensare alla conclusione che effettua il tiro respinto da Passera. E poi ancora il tapì di Bragagnolo che è impreciso. Riparte ancora la squadra dell'Anzio-Ravinio. Pallone smistato a destra con Oringlia che caccia in porta. Tonini attento e già dall'altra parte con il tentativo da parte di Ciuffa. Passera si salta e mette il pallo laterale. C'è De Franceschi intanto che arma il destro. E poi Tonini in due tempi riesce a evitare anche il tapì di De Marco. Ciuffa, non si capiscono anche i loro due. Poi il sinistro che è stato tentato da De Marco. E la parata di Tonini vince però il mismatch Scarpetti. Poi ha cercato l'imbucata al centro. L'anticipo, la fasciata e l'incredibile salvataggio sulla riga da parte di Vinci. Sembrava ormai destinato a realizzare il gol dei due pari. Che arriva però immediatamente dopo con Scarpetti. Che segna dunque il pareggio sugli sviluppi del calcio d'angolo. E dunque l'Anzio-Ravinio ritorna nuovamente in parità. 3 contro 2 adesso per lo Stella che cerca il colpo del 3 a 2. Che manca però Pocchianese. Da destra. Il colpo di tacco che è stato tentato da Pianese. Gesto tecnico fantastico. Alla fine Passera si ritrova il pallone tra le mani. Pallone dietro verso Capogrossi. Che caccia il porta e colpisce un fragoroso palo. A Pazera battuta. Pallone dentro per Pianese. Che da posizione ravvicinata non c'entra lo specchio. Ancora il pallone dietro. Il tiro che termina in rete da parte di Ciuffa. Che riesce a beffare con questo diagonale venenoso Passera. Ha provato la deviazione con il piede destro ma non ce l'ha fatta però. La sfera carambolato sul palo interno e poi è terminata in rete. 3 a 2 dunque per lo Stella. Intanto va a catturare questo pallone. Musilli. Musilli. Mette dentro il pallone per De Marco. Che comodamente deposita in fondo al sacco con il sinistro. Ripartenza micidiale. Contropiede siziale da parte dell'Anzio Lavigno. Che trova il pari con De Marco. Quella che sarebbe una sconfitta glamorosa. Qui c'è un fallo da rigore che viene visto. E' sanzionato. Cartellino giallo. Caccio di rigore per Anzio Lavigno. Il campionato che sembrava ormai quasi totalmente appannaggio della formazione dello Stella. Traversa. Incredibile colpita da Scarpetti. E finisce qui una sfida davvero incredibile dal punto di vista delle emozioni. Finisce 3 a 3. Lo Stella non paga Dazio da quest'ultima conclusione. 3 a 3 dunque tra Rea Stella e Anzio Lavigno in una partita che davvero rimarrà impressa. Soprattutto per quello che è successo nel finale. Ed è tutto. Dunque un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal. Da Enrico Pasquali Coluzzi e da Emanuele Barsi che ha effettuato le riprese televisive.